Da quando Gesù crocifisso è risuscitato, cambiando la storia e il cosmo, l'ultima parola non è più della morte ma della vita e noi siamo chiamati ad essere uomini e donne nuovi secondo lo spirito, affermando il valore della vita. Lo ha sottolineato Papa Francesco in piazza San Pietro prima della preghiera mariana del regina Celi, che dal lunedì dell'angelo e per 50 giorni fino a Pentecoste prende il posto dell'Angelus. È diretto anche a noi l'invito dell'angelo alle donne a fare presto e ad andare ad annunciare agli uomini e alle donne del nostro tempo il messaggio di speranza della risurrezione di Cristo. E saremo uomini e donne di risurrezioni, uomini e donne di vita se in mezzo alle vicende che travagliano il mondo ne sono tante oggi. In mezzo alla mondanità che allontana da Dio sapremo porre gesti di solidarietà, gesti di accoglienza, alimentare il desiderio universale della pace e l'aspirazione ad un ambiente libero dal degrado. Si tratta di segni comuni e umani, ma che, sostenuti e animati dalla fede nel Signore risorto, acquistano un'efficacia ben superiore alle nostre capacità. E questo è così perché Cristo è vivo e Cristo è operante nella storia per mezzo del suo Spirito Santo. Riscatta le nostre miserie, raggiunge ogni cuore umano e ridona speranza a chiunque è oppresso e sofferente. Come testimoni del risorto dobbiamo offrire sostegno e consolazione a chi si trova nella tribolazione e nelle difficoltà perché non rimanga vittima del pessimismo. La Vergine Maria, testimone della morte e resurrezione di Gesù, ha concluso il Papa Francesco, interceda specialmente per le comunità cristiane perseguitate oppresse, chiamate ad una più difficile e coraggiosa testimonianza.